Buongiorno, volevo comunicare a tutti i soci, a tutti i volontari, ai soci delle associazioni in rete con l'Associazione Interforze di Protezione Civile che abbiamo maturato una bellissima esperienza con il gruppo dei sordi della Centro Pastorale San Filippo Smaldoni. Grazie alla Superiore Suor Mafalda abbiamo maturato un evento che ci ha portato a conoscere intimamente quella che è la psicologia del sordo, che sono degli esseri umani eccezionali con un potenziale che a noi sfuggiva. È stata un'esperienza bellissima, l'abbiamo vissuta in armonia, serenità e con loro stiamo instaurando un eccellente rapporto che li vedrà partecipi come volontari di prossimità in favore sia dei fragili, degli ultimi, che dei loro colleghi sordi. Approfitto per fargli auguri di buone festività della Santa Natività nonché per il 2021 che sia un anno di ripartenza e di rinascita. Grazie a tutti e buone festività. Grazie a tutti e buone feste a tutti e buone feste. Grazie a tutti e buone feste a tutti e buone feste. Buone feste a tutti e buone feste. Sì, sì, sì.